Professor Di Gian Antonio, si continua a parlare di questa tragedia, tra l'altro sono emersi nuovi particolari di questa vicenda, la famiglia che era andata regolarmente a cena sabato sera e poi il giorno dopo è accaduto tutto questo. Come si può in una notte cambiare così radicalmente e decidere di sterminare la propria famiglia? Nulla cambia e accade di così drammatico in una sola notte, in realtà è come un terremoto che viene presentato e viene reso possibile nel corso di lunghe settimane precedenti, di lunghi mesi precedenti. C'è una cosa estremamente importante, il grande sforzo che ha fatto questa persona di negare, di non far vedere, di coprire, di far apparire tutto normale, tutto quotidiano, tutto assolutamente regolare, mentre dentro la sua mente nel corso delle settimane si andava prefigurando una sorta di tragico cataclisma. Professore, questa tragedia è l'ultima di una lunga serie nel nostro paese. Poche settimane fa un fatto drammaticamente analogo era accaduto a Latina, si parla di femminicidio anche in questo caso, si può parlare anche di un'emergenza sociale nel nostro paese perché questi fatti si stanno ripetendo con troppa frequenza? Questa è una tragedia immane che ci fa riflettere in modo drammatico sopra la fragilità, la vulnerabilità, la possibilità che crisi esistenziali e della vita possano dare origine a delle tragedie drammatiche senza purtroppo, e parlo da tecnico, darci dei segnali anche minimi per poterci fare intervenire a livello della prevenzione, a livello della terapia. Il nostro sistema sanitario nazionale per la salute mentale lo Stato italiano spende 3,5% del PIL, le Nazioni Sorelle, Francia, Germania e Inghilterra arrivano a spendere oltre il 12% del PIL. Se la salute mentale peggiora, drammaticamente peggiora la salute dell'intera società italiana. Professore, lei prima aveva parlato del fatto che questa persona probabilmente era riuscita a nascondere un po' a tutti il suo disagio, eppure abbiamo letto dalle cronache che qualche tempo fa era riuscito ad avere l'idoneità per poter utilizzare, anche se per uso sportivo, un'arma da fuoco. In questo caso le chiedo, è possibile superare una visita medica psicologica pur avendo qualche problema? Filippone aveva dato un'enorme energia e un enorme sforzo affinché nessuno, niente, potesse far emergere il suo disagio e la sua sofferenza. Filippone teneva in maniera enorme a mantenere il proprio livello di credibilità, di serietà, di onestà, di coerenza e di correttezza. Dunque, alla visita per il porto d'armi si presenta con un certificato anamnestico del medico di medicina generale che escludeva nel corso degli anni qualsiasi tipo di patologia psichiatrica, qualsiasi tipo di utilizzo di farmaci, qualsiasi ricovero in ambiente specialistico, qualsiasi sia pure minimale segnale di disagio e di sofferenza. E altrettanto ha fatto durante il colloquio psichiatrico, ha accreditato di se stesso l'immagine di padre, modello, marito, esemplare, funzionario adeguato e corretto e apprezzato e nell'anamnesi e nel dialogo nulla è potuto essere riconoscibile come un segnale di questa patologia. Grazie a tutti.